Bene, vediamo adesso la seconda parte, diciamo, di questa lezione relativa alla nascita della democrazia. Vi dicevo appunto che la democrazia greca, dove ci fu, ovviamente un processo comunque lento, non è che, tac, dall'oggi al domani, però non era una vera e propria democrazia. Noi oggi non la chiameremmo tale. Innanzitutto, gli stranieri, va bene, anche oggi gli stranieri, in quanto tali, non hanno diritto di voto. Tuttavia, hanno dei diritti, dei diritti civili, ok? Anzi, a volte si fanno delle polemiche pur di garantire questi diritti a questi stranieri. In Grecia, invece, non esisteva questo concetto. Un greco, cioè uno straniero, soprattutto se non era greco, e che si trovasse a vivere in una città greca, a vivere, non semplicemente andare lì, perché capitava di passare di lì, a vivere in una città greca, praticamente non aveva diritti. Aveva bisogno di uno sponsor, di un qualcuno che garantisse per lui, che lo aiutasse in caso di malattia, lo aiutasse in caso di guai con la legge, garantisse, insomma, per lui. Altrimenti era veramente difficile. Invece, semplicemente per far visita, per fare commercio, roba del genere, ci si appoggiava, si andava a ospiti, diciamo così, si appoggiava a qualcuno, soprattutto a cittadini in vista, cittadini famosi, e, insomma, si otteneva ospitalità. In cambio, ovviamente si portavano dei doni, dei regali, in cambio di questa ospitalità, a parte i regali, appunto, c'era il diritto di essere ospitati a propria volta. Cioè, Gigino ospita Gigetto, bene, Gigino, se dovesse recarsi nella città di Gigetto, ha pieno diritto ad essere ospitato. Ma non solo, questa cosa si tramandava di generazione in generazione, per cui capitava di avere il nipote o il bisnipote di qualcuno, che veniva ospitato dal bisnipote di qualcun altro, grazie, appunto, a un rapporto avuto tra bisnonni e roba del genere. E grazie a che cosa ci si riconosceva? Ad esempio, un medaglione che veniva spezzato in due parti, se le due parti combaciavano, allora si era riconosciuti come ospiti. C'è nell'Iliade l'episodio di un guerriero troiano, un guerriero sì greco, che si stanno combattendo, poi però si riconoscono come ospiti, o meglio, sì, perché i loro padri si erano ospitati a vicenda, e allora si abbracciano e si lasciano augurando l'uno o l'altro buona fortuna. Quindi, ecco, non era proprio il massimo essere stranieri. Sicuramente stavano peggio le donne. Ecco, le donne perché? Perché le donne erano considerate inferiori. Ovviamente non in tutta la Grecia, non per tutto il periodo della Grecia classica, ma erano considerate inferiori. Perché fondamentalmente? Addirittura animali parlanti, devono starsene in casa. Perché tutto questo? Perché erano troppo deboli per partecipare alla guerra. Qui non si tratta di è bello, è giusto, non è giusto, chi se ne frega, il punto è, la storia è così. Può piacere o non piacere, ma era così proprio, punto. Cioè, le ragazze non erano in grado di affrontare i combattimenti degli opliti, 40 kg di roba, 30-40 kg di roba, 40 gradi all'ombra, per ore e ore, ok? Quindi, siccome vinceva chi spingeva di più, ovviamente c'era bisogno di giovani robusti e in gamba. Ecco una cosa che mi ero dimenticato. Tenete presente che hanno fatto un esperimento recentemente, hanno messo degli atleti, dei giovani atleti, a fare, diciamo, come devono fare gli opliti, a stare lì per ore e ore con tutta sta roba, li hanno fatti correre come se dovessero andare a sbattere contro il nemico. Bene, su dieci, solo due sono arrivati a destinazione e uno solo di questi sarebbe stato in grado di combattere. Quindi capite bene che bisognava essere tosti proprio per essere un'oplita. Quindi la donna non può andare in guerra e quindi è considerata inferiore dal punto di vista fisico. Il problema è che i greci consideravano che questa inferiorità fisica comportasse anche un'inferiorità, diciamo, una minore dignità in quanto essere umano. anche perché gli opliti, proprio a causa del loro valore, avevano il diritto di cittadinanza e di votare, quindi tu non sei in grado di combattere e allora non hai diritto di parola, visto che non partecipi ai nostri pericoli. Questo è il messaggio, diciamo così. La donna viene considerata, appunto, inferiore, quindi in quanto tale non può ereditare, impara a leggere e a scrivere, ma solo quello che basta, per poi magari insegnarlo ai figli quando sono piccoli. Figli maschi poi vanno alle scuole, diciamo così. Ah, non ve l'ho detto, scolè vuol dire tempo libero. Sì, perché andava a scuola solo chi aveva, come si può dire, aveva del tempo libero dopo il lavoro, fondamentalmente. Quindi andavano a scuola privata, non c'era la scuola di Stato. Niente, dicevo, quindi la donna inferiore non poteva studiare se non proprio qualcosina. Ci sono le eccezioni, per carità, ci sono sempre le eccezioni nella storia e non poteva praticamente mai uscire di casa se non per cerimonie molto, molto importanti, come vi ho raccontato, ad esempio il funerale. Essere disabili in Grecia, scordatevelo, ok? Un disabile mentale ancora ancora, purché fosse in grado di capire magari che doveva lavorare, ma un disabile fisico è praticamente impossibile. Perché? Perché la Grecia è povera, ha poco cibo e quindi figuriamoci se ha la possibilità di mantenere in vita persone che sono semplicemente un peso, un debito, non sono in grado di, come dire, aiutare nella produzione e non sono in grado di aiutare nel combattimento. Quindi è chiaro se uno rimane disabile, cioè perde l'uso delle gambe o gli perde un braccio in battaglia, quello è un altro paio di maniche, che non c'entra niente. Qui parliamo di disabili fin dalla nascita, che venivano semplicemente abbandonati o soppressi. E poi c'erano gli schiavi. Anche questo, cioè la schiavitù, chiaramente fa pugni con la democrazia, non è un concetto democratico. Come si diventava schiavi? O per debiti, non pagati, ed era una schiavitù di solito temporanea, giusto il tempo di ripagare il debito col proprio lavoro, oppure poteva anche essere una schiavitù molto più lunga, ma con il tempo la schiavitù per debiti fu abolita e rimase la schiavitù per guerra. Cioè, in pratica, venivano resi schiavi i prigionieri in combattimento, sopravvissuti ai combattimenti, venivano o acquisiti dallo Stato, che li usava per pulire le strade o lavorare nelle miniere dello Stato, o venivano venduti ai privati per fare soldi, fondamentalmente. Quindi il destino dello schiavo era, ma potrebbe essere molto triste. Se la cavavano meglio, come si dice, gli schiavi privati. Gli schiavi dei privati, perché spesso crescevano, magari nascevano nella casa già come schiavi, figli di schiavi, crescevano insieme al figlio del padrone e magari diventavano amici, e prima o poi potevano essere liberati in cambio di piccole somme, dei somme che loro si mettevano da parte con il tempo, perché in pratica a qualche schiavo di casa veniva anche data una mancia, diciamo così, per i propri servizi. E niente, gli schiavi potevano avere una vita più o meno decente a seconda della generosità del loro padrone o del buon cuore del loro padrone. Quindi potevano fare le pulizie in casa, accudire i bambini, insegnare i bambini, anche c'erano maestri, schiavi, oppure pulire l'equipaggiamento come il tipo che abbiamo visto. Allora, come si arriva alla democrazia comunque? Cioè, abbiamo detto che ci deve essere un passaggio a un certo punto, questi epliti che piano piano protestano vogliono sempre più diritti, oppure nelle colonie abbiamo iniziato tutti uguali, dobbiamo essere tutti uguali, più o meno. Come si arriva a questo processo? Bene, il litigio, il conflitto, l'attrito tra il demos, cioè il popolo, e i nobili e i ricchi, diciamo così, potenti, viene risolto, beh, ci sono lotte, scioperi, proteste, anche violenti, proteste violente, ma alla fine ci si mette d'accordo. E allora come ci si mette d'accordo? Con un legislatore. Legislatore è un personaggio gradito sia ai potenti, sia al popolo, alla gente comune, che si mette lì e scrive le leggi. Mettere le leggi per iscritto è fondamentale, perché ovviamente mette al riparo i deboli, i più poveri, diciamo così, dagli abusi, dalle prepotenze dei ricchi, perché nella legge c'è scritto così, c'è scritto così, ma non solo, il legislatore crea una costituzione, cioè una legge fondamentale che dice quali sono i diritti, quali sono i doveri, come lo Stato è organizzato, chi decide cosa, per capirci, il legislatore. Oppure si chiamava una personalità famosa dall'estero, di un'altra città greca, che veniva lì, andava lì e faceva da arbitro. Cioè, si metteva e diceva, ma cercava di trovare, diciamo, una conciliazione, una via di mezzo, tra gli uni, cioè i potenti, e gli altri, cioè il popolo. Una volta terminato il lavoro, sia il legislatore che l'arbitro ricevevano il loro stipendio, dicevano quello, anzi, dicevano quello che avevano fatto, e se avevano lavorato bene, ricevevano lo stipendio, salutavano tutti e arrivederci e grazie. Chi invece non salutava era il tiranno. Il tiranno, di solito, era un nobile che diventava tiranno, cioè capo, diciamo così, con la forza, sottraendo il potere agli altri nobili. Lo vedremo meglio con Pisistrato, tiranno di Atene. Il tiranno inizialmente non è una figura negativa, per noi è negativo, sei un tiranno, sei uno che vuole far tutto lui. Sì, però all'epoca il tiranno poteva essere visto anche come un qualcosa di positivo. Perché? Perché per buttare giù gli altri nobili, prendersi il potere, e soprattutto tenersi il potere, il tiranno doveva appoggiarsi al popolo, doveva essere gradito al demos, e quindi si dava da fare per, diciamo, trovare lavoro, per creare posti di lavoro, per creare commercio, per creare ricchezza, fare le feste, insomma, feste pubbliche, ovviamente. Insomma, il popolo doveva essere contento, in modo tale da non ribellarsi al tiranno. Quelli che non erano contenti, ovviamente erano i nobili che avevano perso il potere. Famosa comunque la vicenda di Dionigi, di Siracusa, quello che vi ho detto si faceva radere dalle figlie e poi con gusci di noce, quando gusci di noce arroventati, quando non si fidò più di loro, è lo stesso che parlava in pubblico da una torre, oppure che aveva un fossato nella sua stanza da letto. Dionigi è famoso per l'aneddoto, aneddoto, aneddoto vuol dire storiella, per la storiella di Damocle. Ancora oggi si dice, spara di Damocle, quando c'è una minaccia che ti impedisce di goderti la bella vita. Infatti Damocle aveva chiesto a Dionigi di fare la bella vita del tiranno, e lui l'ha accontentato, vedete le fanciulle che gli danno da mangiare, da bere, tutto comodo, tutto bello vestito, profumato, eccetera, ma a un certo punto vede questa spada che pende sulla tua testa, e in pratica sono i pericoli ai quali è sottoposto il tiranno. Allora, abbiamo quasi finito, adesso cambiamo un attimo argomento, come, dunque, per uno Stato, uno Stato per essere tale, ha dei poteri. Quali sono questi poteri? Sono tre tipi di potere, questi dovete saperli proprio. Il potere legislativo, che è in pratica quello che scrive le leggi. Oggi è il Parlamento italiano, deputati e senatori eletti dal popolo. Poi c'è il potere esecutivo, oggi è il governo di Conte, praticamente, con i suoi ministri. Esecutivo è quello che ti, come dire, che fa in modo che le leggi siano applicate, che in pratica chi ha deciso la legge venga obbedito. Il potere giudiziario, invece, è quello dei giudici che condannano chi ha violato la legge. Ovviamente, li condannano sempre secondo la legge. Allora, le varie forme di governo. La monarchia, monos arcos, uno solo che comanda. Poi abbiamo la aristocrazia, appunto, quando sono a governare sono gruppi di nobili. Il nobile è tale per sangue, per discendenza. Diciamo, persone importanti alla fondazione della città, tramandano, diciamo, il loro nome ai loro discendenti, si creano delle dinastie, in un certo modo, di nobili. Ok? E quindi, si è nobile per eredità, fondamentalmente. Poi ci sono gli oligarchi, cioè l'oligarchia, cioè il governo di pochi. Ma quali pochi? Quelli che sono ricchi. Di solito, l'oligarchia si fonde con l'aristocrazia, cioè, quindi i nuovi nobili sono dei ricchi, diciamo, persone normali che si sono arricchite, che sono talmente ricche che diventano importanti e allora stanno alla pari con i nobili di vecchia data. Poi abbiamo detto c'è la tirannia, che vi ho appena spiegato, e infine la democrazia, con la democrazia greca, con i limiti che vi ho detto, appunto, riguardo soprattutto alle donne. donne, risabili e schiavi, perché la schiavitù di certo non è democratica. Per quanto riguarda gli stranieri è un altro paio di maniche perché ovviamente anche nel mondo di oggi anche nella democrazia italiana, nella Repubblica italiana, non è che siccome uno è straniero ha tutti gli stessi diritti dei cittadini. E adesso, appunto, una cosa importantissima da sapere, i diritti civili, i diritti politici, i diritti civili sono ad esempio, non sono soltanto questi, ma sono quelli diciamo più evidenti. Il diritto alla salute, il diritto a una famiglia, a una vita privata in un certo modo, alla proprietà privata, guardate che non in tutte le nazioni c'è il diritto alla proprietà privata. Ad esempio, nei regimi comunisti la proprietà privata non è sempre garantita. C'è il diritto di spostarsi, di andare dove si vuole, tranne situazioni particolari come il Covid, il diritto di parola, di esprimersi anche in, purché non si violino altre leggi, altre leggi. E altro diritto civile importantissimo è il diritto all'istruzione, quello che voi, in teoria, state, di cui voi state godendo. I diritti politici, invece, possono essere attivi o passivi. Diritto politico è il diritto di votare. Questo è il diritto politico attivo. Passivo, invece, è essere votati, essere eletti. un maggiorenne in Italia ha tutti i diritti politici e civili. Non proprio tutti. Il diritto politico passivo, alcuni incarichi si possono ricoprire solo dopo una certa età. Ad esempio, il Presidente della Repubblica mi sembra che debba avere almeno 50 anni per essere tale. Vi ricordo che il popolo non elegge né il capo del governo in Italia né il Presidente della Repubblica. Il capo del governo è scelto dal Presidente della Repubblica ed è approvato dal Parlamento. Il Parlamento è sì votato dal popolo, è solo quello. Chi sceglie il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica è scelto dai deputati, dai senatori riuniti insieme con alcuni rappresentanti delle varie regioni d'Italia. Tutti insieme scelgono il nuovo Presidente della Repubblica il quale poi nomina, appunto, come vi dicevo, il capo del governo, in questo caso Conte. Tutti questi meccanismi li trovate nella Costituzione ad esempio della Repubblica Italiana. La Costituzione è in pratica quella legge fondamentale che dice innanzitutto come funziona uno Stato, cioè chi fa cosa, quali organismi, quali sono i poteri del Presidente, del Ministro, del che cavolo ne so io. Ok? Ecco, come funziona. E in secondo luogo vi sono i diritti fondamentali, i principi fondamentali, ad esempio il diritto alla proprietà privata, il diritto a spostarsi, queste cose basi. Tutte le leggi che ci sono in un dato paese devono obbedire, diciamo così, alla Costituzione, cioè non devono entrare in contraddizione con la Costituzione. Io direi di aver finito così, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato chiaro, se ci sono dubbi fate domande o scrivete in YouTube quello che è. Alla prossima! Alla prossima!